E' lunedì 4 novembre, buongiorno, il primo appuntamento della settimana e della giornata con l'informazione di Telemolise, la rassegna stampa direttamente come ogni lunedì alle mie spalle, lo vedete adesso inquadrato il giornale del Molise.it, questo l'argomento di apertura riguarda la politica regionale, giochi di prestigio, in regione spunta a sorpresa l'ufficio del consigliere delegato alla protezione civile e il titolo dell'articolo a firma di Pasquale Di Bello, andiamo a vedere anche le altre notizie, scorrendo rifiuti tossici, la regione istituisce un gruppo di lavoro Niro per il 4 novembre, grati alle forze armate, ha detto il presidente del consiglio regionale. Vertenza Vibac, mercoledì incontro in regione e i 153 dipendenti restano a casa. Poi vedete sulla sinistra le altre notizie dalla regione, Colletorto diventa paese europeo, 5 delegazioni in visita per festeggiare riconoscimento. Isernia, partono i lavori per l'asilo nido di Via Umbre e poi ancora da Isernia ecco come incassare i crediti delle pubbliche amministrazioni. E poi vedete al centro le notizie dall'Italia, a destra quelle dal mondo. Andiamo a vedere anche primo piano Molise, l'apertura è la prima pagina di oggi, l'apertura è questa, allarme Gomorra, rifiuti tossici in Molise, aperta un'inchiesta. La procura di Isernia indaga sui siti del Venafrano, indando l'aggiunta frattura in sede a una task force, gli esperti verificheranno le dichiarazioni di Schiavone. Il pentito che ha appunto fatto dichiarazione sulla presenza di rifiuti tossici anche nella nostra regione. Sesto Campano, Maxirissa fuori dal pub, 46 anni accoltellato, coinvolto in una zuffa con tre romeni, ora è al veneziale. Da Guglionesi, caldo fuori stagione, fiamme e fumo sulla Bifernina, il rogo ha provocato la chiusura della statale. E poi il 4 novembre, il giorno delle forze armate e un film, ricorda il caporale di Lisio, in Reduci, le testimonianze dei commilitoni sull'agguato di Farà, ricorderete. E ricordate il ragazzo molisano ucciso. E poi le notizie dello sport, allora cominciamo dal calcio con questa fotonotizia, Termoli all'ultimo respiro per il ruolo anti-Ancona, Lisene invece crolla all'Ancelotta contro il Matelica, Agnone in un tunnel senza uscita, Boiano, la vergogna continua, otto reti al passivo in distinta, solo 11 atleti. Qui siamo in eccellenza, il Fornelli perde altro terreno, pari a Gambatesa, meno 10 dai lupi, confermata la fiducia a De Bellis, ma ci saranno tagli in organico. E poi promozione, Real Termoli affonda con la Torre Magliano, Casa Nuovo Ok, Piro Tecnico 2 a 2 fra Molise e Rocca Sicura. Vediamo anche le altre notizie della prima categoria, Carpinone allunga in vetta, disco rosso per la Sestolese, seconda categoria invece San Felice ed Amatori Boiano al comando, Parla Canestro, Sardella, la prima esplora in B, il globo gap di 35 a Trani e poi dall'Abruzzo, Vastese ritrova il Sorriso, il San Salvo cade a Roseto. Andiamo adesso a vedere il quotidiano del Molise, parte la caccia ai rifiuti tossici, in regione si rito una task force, l'onorevole Venitelli batte cassa al governo e a Isernia scatta una inchiesta. Vediamo le altre notizie prima dello sport, Isernia a Pontarelli minacciato di morte, processo al via, da Frosolone chiude il classico, grandi manovre per la scuola, Isernia il comune chiede fondi per realizzare un cimitero per i cani. E poi lo sport, il calcio, Serie D, Termoli, Urrà al novantatresimo, Isernia e Agnone, K.O., Disastro, Boiano, Biancorossi, Travolti ad Ancona 8 a 0, Penti e Granata senza scampo. Per quanto riguarda l'eccellenza, vedete, impresa gambatesa col Fornelli finisce 1 a 1, per la promozione, Scivolone, Real Termoli, Quercus, Ok, Pari, FC Molise e per la prima categoria vince il Cerce, Ururi, Battuta, L'Angioina, Dilaga 6 a 3. Questa è la pagina del Molise, del quotidiano Il Tempo. L'inchiesta, Ecomafia, rifiuti tossici, la regione si muove ed arrivano gli esperti da Napoli, la storia a caccia di siti inguinati, mercoledì il vertice per la sicurezza dal prefetto. Verbale top secret, le rivelazioni di Schiavone risalgono al 1997, ma nessuno finora le ha verificate esponendo la collettività a rischi gravi. Pozzigli, allarme e radiazioni, nel 2011 furono eseguite analisi con asito negativo in una ex fonderia alla ricerca di uranio impoverito e da Isernia, leggiamo ancora, il procuratore Albano ha aperto un fascicolo contro i gnoti, ovviamente sempre. Per quanto riguarda questa inchiesta, Corea, la Commissione ha costituito poi il Comitato di Salute Pubblica. Tutte le notizie che quindi riguardano questa inchiesta. Vediamo anche la prima pagina del Sagno Quotidiano di Benevento, leggiamo l'apertura, la tangenziale è gratis ma per l'UTC non serve. Qui parliamo ovviamente di San Martino Sanita, il sindaco si dice incredula, l'opera è nel nostro FUC ed è a carico nostro. Scontro tra vicini, San Giorgio del Sagno nega lo sfincolo a una strada in fase di realizzazione. Andiamo a vedere adesso i quotidiani nazionali, quali sono gli argomenti in primo piano. Si parla ancora del caso Cancellieri. Cancellieri offre due volte le dimissioni, Letta dice resta è giusto andare avanti. Ha fatto sapere il Premier il caso dei bonus ai giovani, poi Grillo all'attacco, niente lavoro, un fallimento. La replica del Premier è disfattismo, PDL spaccato sulla legge di stabilità, Lupi accusa i falchi. Questa era la prima pagina del Corriere della Sera, vediamo allora anche quella del sole 24 ore del lunedì con i temi economici. L'apertura è questa, si riapre il rebus dell'IRAP per i piccoli contribuenti, nuovo stop all'esclusione dall'imposta per mini imprese e professionisti senza organizzazione personale via i 700 milioni stanziati, soluzione forse con la delega fiscale. E poi a centro pagina fiducia in lento recupero dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea le aspettative di imprese e famiglie mostrano segnali contrastanti, la ripresa resta fragile per l'Italia, indici in frenata. Sole 24 ore, allora adesso andiamo a vedere anche la gazzetta del Mezzogiorno che apre proprio con le dichiarazioni di Letta, basta con i disfattisti. Eccola qui, dura replica a Grillo sul bonus giovani dal 1 ottobre, 14 mila nuovi assunti partiti, caos, tessere nel PD, epifanità, c'è fitto in TV, nessuna scissione nel PDL. E poi leggiamo, il Premier se la prende anche con i falchi, i pidiellini come Brunetta che legano a fatti estrani in via libera alla legge di stabilità. La festa delle forze armate, ricordiamo oggi, Afghanistan, i pugliesi continuano la missione, questo è il titolo ovviamente, della gazzetta del Mezzogiorno quotidiano pugliese, in occasione della giornata del 4 novembre. Vediamo anche il mattino di Napoli, mafia, il flop dei soldi sequestrati è l'apertura, il Fondo Unico di Giustizia rende solo lo 0,10%, i costi annullano gli utili, burocrazie e spese in crescita, così un tesoro viene sprecato. Invece a centropagina c'è quest'altra notizia, sulla manovra sulla legge di stabilità, pensioni basse in arrivo più detrazioni, è il focus appunto su uno degli argomenti delle norme contenute nella legge di stabilità. Vediamo adesso il Tempo di Roma, basta chiacchiere, contate i morti, il caso Cancellieri, domani il Ministro spiegherà perché si interessò a Giulia Ligresti, la politica discute, insiste a dividersi e i detenuti continuano a crepare in cella. Questa è la lettura del Tempo di Roma, che ovviamente dedica la fotonotizia anche al posticipo di Serie A di calcio in cui è stata impegnata la Roma, la Roma torna sulla tela perché la squadra dei record ha pareggiato ieri sera 1-1 a Torino. Quindi questa era la prima pagina del Tempo, dobbiamo ancora vedere in PDF l'unità che apre a tutta pagina, niente ombre sulla giustizia, Cancellieri prepara la difesa, non ho sbagliato, ha detto il Ministro, il PDL è come rubi il PD diviso, Cuperlo non usare il caso contro Letta, Civati dice vada via, Bonafè, se l'ha fatto per altri niente scantolo, il Movimento 5 Stelle dice sfiducia anticipata. E poi c'è anche un dossier, i tagli che hanno diviso l'Unione, la politica dell'asterity ha provocato solo danni, lo dicono nuovi studi del Fondo Monetario Internazionale, Paese europei separati in quattro fasce, è crescita PIL, l'Italia all'ultimo posto. E dunque questa era l'unità. Passiamo a vedere adesso la stampa. Epifani, manovra da cambiare, intervista al segretario del PD, servono 2,5 miliardi in più, non diamo alibi al PDL. Il tesoro, le tasse sono in calo nel 2014 per le famiglie e benefici di un miliardo, bonus giovani, polemiche fra 5 Stelle e Premier. La Repubblica, Cancellieri, Letta, blinda il governo, il ministro, basta fango o mi credono, lascio, il PD si divide. Caso Ligresti, no alla mozione di sfiducia dei grillini, ma spunta l'ipotesi di un rimpasto, Civati, troppi imbarazzi, il guardasigilli si dimetta. E poi c'è anche un dossier segreto dell'Unione Europea sull'Aquila e quindi sul terremoto in Abruzzo, sprechi e mafia nel dopo terremoto, i costi delle case levitati del 158%, contestati 350 milioni di aiuti europei. Il messaggero casa, tornano le detrazioni, nella Tasi, reintrodotti gli sgravi previsti per la vecchia IMU, 200 euro a famiglia, 50 per ogni figlio. Pensioni, il governo vuole allargare la no tax area, il Tesoro assicura nella manovra meno tasse. E poi c'è anche qui il caso Cancellieri, se Letta mi chiede di lasciare, poi lo dovrà spiegare al Paese, intervista alla Cancellieri, contro di me il metodo boffo. E poi il giornale, sette mosse per salvare la casa, immobili tartassati, il governo progetta di fare cassa con il mattone, ecco come il centrodestra può impedirlo. Cancellieri verso la fiducia, ma su Berlusconi sbaglia. C'è anche, si torna a parlare di Antonio Di Pietro, penali per chi esce dal partito, Di Pietro vuole multare gli ex e nasce l'equitalia dei valori. Questa è la lettura del giornale su questa notizia. Chiudiamo i quotidiani con lo sport. Interattac, il colpo, terza vittoria esterna per i Nerazzurri, che hanno appunto vinto in trasferta a Dudine, e poi invasioni barbariche, Barbara cambiare filosofia, Barbara Berlusconi la figlia del presidente del Milan, Gagliani sotto tiro. Per la Roma, Cerci gol, spezza la marcia triunfale, Stottmann firma l'1-0, ma il Toro reagisce, il conto dei successi iniziali giallorossi si ferma a 10, negato rigore a Pianic, Juve e Napoli a meno 3, García, buon punto, non si può sempre vincere, ha detto l'allenatore. Rivelazione, il Verona di Toni non molla, col Cagliari settima vittoria, i benconeri della Juventus verso la Champions, Marchisio una carica real, la Juve sa già cosa fare. Per quanto riguarda il tennis, azzurro e ragazze d'oro arriva la quarta Fed Cup, Super Italia Cagliari 4-0 alla Russia, c'è anche spazio per la Formula 1, Vettel 7 bello come sciumi, grinta Alonso e quinto record ad Abu Dhabi. Per quanto riguarda ovviamente Vettel. Torniamo in video per annunciare gli highlights della redazione sportiva e quindi immagini e commenti con i gol delle gare disputate ieri nei tornei di calcio molisani. Questi risultati maturati nel girone F della serie D. Ancona-Boiano 8-0, Fano-Renato-Curi 2-0, Fermana-Civita-Novese 0-0, Giulianovo-Olimpia-Agnonese 2-0, Isernia-Matelica 0-3, Maceratese-Amiternina 2-0, Recanatese-Pesaro 1-2, Sulmona-Iesina 2-0, Termoli-Celano 1-0. In classifica c'è al comando con 23 punti l'Ancona, segue a 20 il Termoli, 19 Sulmona-Maceratese-Civita-Novese, 17 Matelica-Vis-Pesaro, 16 punti per il Giulianova, 15 per la Iesina, a 12 punti troviamo il Celano e la Fermana, 11 Amiternina, 10 Fano, 9 Recanatese, 7 Limpianonese, 6 Zernia, chiudono a 4 Renato-Curi e Boiano. 92esimo De Tommaso, in venta per Santora, tu per tu con Bartoletti il tiro e il gol! Termoli-1, Celano-0, è il vantaggio del Termoli. Al 27esimo si sblocca il risultato a Lancellotta, con Gilardi che porta il suo in vantaggio. Al 41esimo è Cacciatore a raddoppiare per il Matelica. Quando siamo al 17esimo della ripresa, sono ancora gli ospiti ad andare a segno con Api. Matelica-Battesernia, 3-0. Ancora una sconfitta per l'Olimpianonese, questa volta in casa del Giulianova. Dopo un primo tempo terminato 0-0, il Giulianova nella ripresa passa in vantaggio con Broso. Il raddoppio ed il definitivo 2-0 è ad opera di Esposito, l'attaccante di San Martino in Pensilis, che realizza sul rigore. Nona giornata per l'eccellenza. Alife-Campo Basso 0-1, Verano-Cleternina 2-2, Gioventù-Down-Avasto-Girardi 3-1, Gambatesa-Fornelli 1-1, Montenero-Virtus-Pozzilli 0-0, Roccaravindola-Venafro 0-2, Santeliana-Roseto 1-1, Sesto-Campano-Montaquila 4-1. A punteggio pieno guida la classifica, il Campo Basso a quota 27. Segue a 19 la Gioventù-Down, a 18 per il Venafro. A 17 troviamo il Fornelli, 16 punti per Basso-Girardi, Sesto-Campano e Santeliana, a 14 il Roseto, 12 per il Gambatesa, 10 Cliternina, 9 punti per il Montenero, ad 8 Ceralife, a 7 il Roccaravindola, 4 Verano e Montaquila. Chiude con 3 punti la Virtus-Pozzilli. Al venditti termina 1-1 il match tra il Gambatesa ed il Fornelli. Gambatesa in vantaggio, al nono del primo tempo. Disimpegno errato della difesa ospite, Tosches ne approfitta e con un lob morbido realizza il gol del vantaggio. Il pareggio del Fornelli al terzo minuto della ripresa. Da tiro cross di De Vizia, sbaglia Capobianco e da due passi, Mingione pareggia i conti. Ed è tutto per questo appuntamento con la nostra informazione. io vi ricordo il prossimo, il telegiornale alle ore 14. Grazie per aver scelto il Tg del mattino e la rassegna stampa di Telemulise. A voi tutti, buona giornata. grazie a tutti.